Le campagne pugliesi continuano ad essere fabbriche di morte, una situazione che non è più sostenibile. Tre vite stroncate in pochi giorni e un bilancio intollerabile, sono le parole del senatore Dario Stefano alla notizia dell'ennesima tragedia del lavoro nei campi pugliesi, che ha visto un tunisino perdere la vita a Polignano. Ai familiari della giovane morta ad Andria qualche giorno fa e dello sfortunato bracciante che ieri ha perso la vita a Polignano va il mio cordoglio, ma siamo consapevoli che questo non può bastare agli organi preposti il compito di fare chiarezza. Occorre però un'iniziativa forte affinché in Puglia, come altrove, non si muoia più lavorando. Questa sortita del senatore Stefano rappresenta un problema reale che investe da sempre il mondo dell'agricoltura pugliese. In questo periodo in cui si viene a ballare in Puglia, tutti gli organismi preposti devono comprendere la complessità di tale fenomeno in primis l'assessorato all'agricoltura di Viale Capruzzi, che ha le risorse utili al contrasto e alla prevenzione.